L'estate inizia per tutti, soprattutto per la conduttrice più amata di Mediaset, Barbara D'Urso, che condivide coi fan uno scatto da bordo piscina che fa sognare. Mare, o perché no piscina, sole e post Instagram da condividere coi fan, l'estate della conduttrice di pomeriggio 5 inizia con... Barbara D'Urso ha infatti appena condiviso coi fan un post sul suo profilo Instagram, in cui si mostra in tutta la sua bellezza naturale dopo un bagno in piscina, commentando, ed oggi iniziamo così in... Sono tantissimi i VIP che stanno partendo per le vacanze e in molti, in pieno stile all'italiana, stanno scegliendo mare e piscina. Anche Barbara D'Urso non è da meno e, mentre ci godiamo il panorama che si vede sorgere dietro di lei, un po' la invidiamo anche. L'estate in piscina di Barbara D'Urso, già qualche giorno fa, all'incirca una settimana fa per essere più esatti, Barbara D'Urso aveva condiviso sul suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraevano, con indosso un cappello di paglia chiaro, un sopra costume bianco in pizzo e l'immancabile paio di occhiali da sole neri, sotto un costume dalla stampa a metà tra l'animalayer e il naive. Insomma, per chi conosce e ama un po' la moda, il look da piscina di Barbara D'Urso è un'apoteosi di fashion trend, dal costume animalayer, uno dei modelli più diffusi e di tendenza della stagione, fino all'uso del cappello di paglia chiaro in stile. Ma c'è anche un'altra cosa dello stile della conduttrice che abbiamo amato. Nell'era della body positivity, cioè di quel movimento socio-culturale che vuole insegnarci ad apprezzare le bellezze, plurale, in tutte le loro forme, Barbara D'Urso sceglie un look senza trucco. Se in televisione, durante la conduzione dei suoi programmi Mediaset, l'abbiamo sempre vista truccata e vestita a puntino, in vacanza Barbara si concede scatti candidi e senza make-up, e a 65 anni ancora ci sconvolge con la sua bellezza.